cari amici siamo arrivati all'ultima parte della torre vedete qua siamo alla chiesa di san benedetto in la mezia madonna d'ucarmino quanteata cari amici è uno spettacolo è uno spettacolo vivente perché stai male che bellezza va giù vedete vedete l'ospedale il comune l'altra torre campanaria sono immagini straordinarie cari amici lunedì è un evento straordinario per la nostra città per la nostra dioce si verrà il cardinale segretario di stato il numero 2 del vaticano quindi non è che si scherzi inaugurare questa splendida chiesa che ho avuto l'onore di vedere oggi è anche l'altro giorno giustamente grazie a don domenico che ringrazio di vero cuore vedete il campanile dell'altra torre il sgrazzo mio ce l'ho chiesto vedete la campana siamo sotto la campana passi qua avete dove siamo passi qua tu a ieri che ti vedi una cacarella ciao valentino guarda qui guarda qua la campana della chiesa ciao genio qua questo è il suo luogo posso fare il testo guarda è un'emozione unica stai sudando posso arrivare là solo che i miei cacchi però c'è arrivare devo raggiungere l'obiettivo eh si scusate ma io mi siedo perchè pure il camellor di pantano non mi interessa no è uno spettacolo ragazzi siamo a 40 metri da terra 40 metri il campanile è 42 metri e mezzo vedete il mare il nostro mare la nostra bella città guardate il mare ovviamente non si vede bene c'è un po' di foschia oggi però è una bella giornata davvero madonna ducarmi non stai rimando stai andando vedete il Caronte in fondo nella piana stiamo unendo andrea scendiamo grazie a me si ciao campane vi ho visto da terra e vi ho visto anche le messe scendiamo aspetta aspetta un'altra voglio me la guardate la faccia mi è sudato guardate madonna mia è un'emozione è un'emozione unica voglio vedete il comune ciao toni tonino spe, siamo sul campanile, siamo sul tetto, toni guarda la vista che c'è toni guarda guardate il comune andrei dove sei andrei ragazzi e non potete immaginare l'emozione che si prova a vedere dall'alto la nostra città davvero davvero emozionante davvero emozionante davvero siamo a 40 metri di altezza vedete l'ospedale in fondo il comune stanno lavorando giustamente notte e giorno notte e giorno penso a te ciao emma c'è emma in diretta ciao emma guarda il comune la piazza piazza lamesi ragazzi vedete stai morendo dove cato mamma guarda il comune scusami andrei stai avvenendo dopo giù bene guarda il comune guarda le campane fantastico davvero grazie a tutti siamo proprio sotto le tre campane le altre due sono dell'altro campanile non potete immaginare l'emozione che sto provando da un quarto d'ora a questa parte ora scendiamo ce ne andiamo vedete l'ospedale andrea andrea sai che mi hai abituato ma non mi gira più la capa si abitua vedete piazza lamesia la futura piazza lamesia il comune il comune e poi l'ospedale quindi comune e ospedale chiesa comune e ospedale tutto vicino andate a pregare in chiesa andate all'ospedale per una visita andate allo comune per fare i carti burocrazia tutto vicino e andate belli andate andate Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo scendendo. Questo è l'ingresso della chiesa di San Benedetto, guardate. Fantastica, una chiesa modernissima. Grazie. Grazie a tutti. Ciao, ciao a tutti.